Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie. Voi siete un'azienda nota, famosa e la digitalizzazione, i processi di trasformazione digitale ovviamente coinvolgono anche voi, pur nella necessità di mantenere una tradizione, mantenere un prodotto eccellente come lo conosciamo. Allora vorrei partire proprio da questa trasformazione, quella che chiamiamo la digital transformation. Che cosa state facendo, quali sono i progetti principali che stanno plasmando anche la vostra azienda? Guarda, ti ringrazio per il tema e per la domanda che è sicuramente di grande attualità. La digitalizzazione oggi è un tema imprescindibile per qualsiasi azienda che chiaramente guardi al futuro e probabilmente per quello che chiaramente noi sperimentiamo all'interno di questa apparente contraddizione fra la volontà di mantenere la tradizione dei processi e chiaramente modernizzazione degli stessi e quello dell'integrazione dei sistemi che sono concettualmente interconnessi e dalla produzione mi viene da dire fino alla comunicazione al consumatore. Ecco, riteniamo che questa sia la frontiera oltre gli ambiti di blockchain che sono già esplorati, ma più specificatamente nei termini proprio dell'interconnessione dei processi interni ed esterni ai cicli produttivi fino ad arrivare addirittura alla sfera del marketing, del B2B e perché no anche quello del B2C. Sono a vostro parere i maggiori benefici che state ottenendo da questi processi, dalla trasformazione di questi processi? Guarda, te ne dico uno generale e due specifici. Quello generale è un annuncio che risale a qualche giorno fa. Abbiamo deciso di siglare un accordo di un valore complessivo superiore a 3 milioni di euro con le piattaforme WIT. Si tratta chiaramente di una partnership tecnologica con uno dei principali player europei nel mercato dei servizi cloud. Ecco, noi dal 1 gennaio inizieremo la migrazione di tutti i sistemi informativi sul cloud di WIT, comprensivo dalla piattaforma SAP ANA, piuttosto che le platform as a service, le PAS, che renderanno chiaramente interconnessi i sistemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per l'Italia e per l'estero. Ecco, questo è il primo degli investimenti più importanti annunciato qualche giorno fa di carattere chiaramente generale. Poi vengo agli ambiti strettamente produttivi che citavi all'inizio. Abbiamo recentemente realizzato un sistema MES per la registrazione di dati di confezionamento e tracciabilità, che ci consente di avere una visione completa dall'ordine fondamentalmente alla generazione dell'etichetta in traccia continua. E poi il sistema TRAC, che viceversa impieghiamo proprio direttamente in produzione, e traccia tutto l'andamento di uno dei fattori più importanti, dei processi più importanti della produzione, che è l'essiccazione della pasta, che di Cecco realizza con temperature basse, quindi è un processo chiave, assolutamente core. Ora, avere un sistema perfettamente integrato con delle matrici esterne allo stesso, e poi generalmente su un cloud, ci consente di avere un vantaggio non banale nella gestione dei processi. Sì, questo della trasformazione digitale, che tocca anche la tradizione, è un tema importante e fondamentale per tantissime aziende italiane, e sappiamo, direi cose scontate sulla capacità di mantenere tradizioni e diffonderle in tutto il mondo. A proposito, tocco un tema che secondo noi, del Sole24ore, ma diciamo secondo Confindustria, e secondo tutte le aziende, è centrale e fondamentale, quello delle persone e anche delle persone che aiutano a comprendere la trasformazione digitale, che è un processo in evoluzione, non termina mai, e soprattutto in alcuni momenti, e probabilmente anche in questo momento è a volte anche incerto, visto che l'incertezza fa parte della trasformazione continua. Ecco, chi vi aiuta prevalentemente? Riuscite a trovare persone, avevate persone all'interno che hanno guidato questi processi? Perché questo è un tema poi che toccheremo anche in altri interventi durante la mattinata. Guarda, hai toccato un tema centrale, che è quello del doppio valore, nel senso del valore delle risorse interne, che rappresentano un fil rouge con la tradizione, con la conoscenza, col prodotto, con la cultura aziendale, è quello che è un necessario bypass con l'esterno, per cui ad aiutarci sono sicuramente le competenze interne, e chiaramente cerchiamo dei partner che, mediante delle case history nel nostro ambito, cioè quello del largo consumo, quello dell'alimentare, ma anche con delle ibridizzazioni che arrivano da altri ambiti, ne abbiamo recentemente realizzato uno proprio con un partner focalizzato in ambito tecnologico, ci aiutano a crescere orientando questa prora verso quello che è il futuro, che non è un futuro di contraddizione, ecco, tradizione, digitalizzazione, mi spingo un po' oltre, raccogliendo, probabilmente anticipando un tema del pomeriggio, quello della sostenibilità. Non sono contraddizioni, sono temi solo apparentemente distanti, noi riteniamo che sostenibilità e digitalizzazione sia in realtà un unicum, cerchiamo di dimostrarlo e abbiamo una grossa responsabilità proprio negli ambiti della comunità di cui parlavi, noi abbiamo uno dei due impianti che è all'interno di un geoparco patrimonio dell'UNESCO, quindi potete immaginare come effettivamente la digitalizzazione debba a servire alla sostenibilità, sostenibilità che per noi ha quel riflesso di comunità che dicevi di qualche giorno fa, l'annuncio dell'apertura, l'ultimo bell'atto da parte della Fondazione De Cecco, dall'apertura di un asilo riservato ai figli degli impiegati e delle aziende. Ecco, anche in questo caso riteniamo che sia un unicum, un processo in unicum che nasce dalla tradizione, passa attraverso la digitalizzazione e sfocia necessariamente nella sostenibilità. Bene, hai fatto molto bene, io mi permetto di dare del tuo agli ospiti, o comunque a molti degli ospiti che abbiamo in questa mattina, ti hai fatto bene a toccare il tema della sostenibilità, perché avremo anche un panel proprio dedicato a questo. Un'ultima domanda relativa all'andamento dell'azienda. Allora, ci sono tante ricerche che ci dicono che laddove c'è investimento in innovazione, molto spesso, ci sono altissime percentuali, molto spesso le aziende crescono e funzionano molto bene. Se dovessi guardare alla vostra azienda Fratelli De Cecco, l'azienda sta andando bene, ha aumentato anche il fatturato nell'ultimo anno, quanto di questo è dovuto anche all'innovazione che avete fatto, alla digitalizzazione dei processi? Ovviamente il prodotto è fondamentale, se c'è un buon prodotto, quella è la base di partenza imprescindibile. Ma guarda, io credo che sia necessariamente una somma di tante cose, ma l'aspetto digitale, qui tocco tanti ambiti, è stato decisamente strategico sotto tanti ambiti. Quello di sicuro produttivo che citavo ci ha consentito, soprattutto in un momento di grosso stimolo alla dematerializzazione, di essere sempre pronti a dare una risposta al mercato, anche laddove chiaramente la fisicità è venuta meno per la congiuntura. Ma anche dal punto di vista, ad esempio, della tecnica di intendere il mercato, del category management. Noi abbiamo delle banche dati a nostra disposizione che abbiamo continuamente manutenuto ed evoluto. Questo ci consentono fondamentalmente di monitorare quelle che sono le uscite, quelle che sono le stagionalità, quelle che sono i picchi di vendita, di anticiparli, di realizzare in partnership con la distribuzione organizzata quello che è il perfect shelf. Essere presenti nel momento giusto, con l'offerta giusta, conoscendo i leverage promozionali delle attività e implementandoli nella miglior maniera possibile significa di fatto ridurre quell'incertezza di cui parlavi ed essere presente anche a scaffale con la migliore formula possibile per valorizzare la nostra offerta e chiaramente la nostra offerta del partner dell'industria distributiva.